No agli scilipoti nel Movimento 5 Stelle è una questione di stile e di rispetto verso gli elettori. Grassi si dimetta o paghi la multa. Così il sottosegretario pentastellato Carlo Sibilia, a margine dell'iniziativa Giocattoli in Movimento, commenta l'addio del senatore Irpino passato alla Lega. Tutti liberi di cambiare idea, ma o si pagano i 100 mila euro di multa, così come è stato difeso dallo stesso senatore, o si rivade le elezioni perché quello è un collegio nominale, c'è la suppletiva, si può fare già a febbraio, quindi non ci sono difficoltà. Verso le regionali Sibilia non teme che l'addio di Grassi Urraru sia un campanello d'allarme per il territorio campano e apre al civismo, De Magistris compreso, per superare un governo, quello di De Luca, inadeguato. C'è una regione inadeguata, guidata da persone inadeguate, quindi l'attuale gestione va superata. In quest'ottica io penso che tutti i ragionamenti sono possibili. Infine non pone veti al nome della Cerambino come candidata a Palazzo Santa Lucia. Bisogna trovare dei candidati di sinistra, se sarà Valeria Cionambino è un posto che è esserne contento. Intanto la Lega ha promosso in tutta Italia l'iniziativa con i gazebo no tax. A Napoli è partecipato tra gli altri il docente universitario Aurelio Tomasetti. Il nostro cavallo di battaglia, documentato, studiato, approfondito e che può essere una vera rivoluzione fiscale è la flat tax, la cosiddetta tassa piatta del 15% che rappresenta sicuramente un risparmio di imposte, che rappresenta sicuramente una semplificazione amministrativa, una semplificazione burocratica.